salve a tutti ragazzi io sono squall e bentornati su yes or grace signori riprendiamo dove ci siamo lasciati nello scorso episodio abbiamo ottenuto una strega un po rimbecillita però è pur sempre una strega che ci aiuterà anche nella battaglia finale come robe da sbloccare per il momento abbiamo solamente le stalle e la giostra ma ancora abbiamo zone da esplorare in mappa e per quanto riguarda la felicità per il momento ci siamo conserviamo le nostre risorse e va bene così direi stiamo pagando per le spezie stiamo pagando 22 per la manutenzione dell'esercito quindi paghiamo sempre di più a livello di cibo ma direi che ci siamo possiamo anche continuare non abbiamo nel generale nella strega per due settimane e radovia arriverà tra 11 settimane quindi continuiamo signori continuiamo vediamo che cosa riusciamo a fare in questo episodio in queste due settimane probabilmente che ci andremo a giocare un po come sempre diciamo no magari sono più veloci ce ne giochiamo anche a tre vediamo un attimino quanta gente arriverà jonas il buffone con questi stupidi guanti rossi prestatemi l'oro e ve lo restituirò tra una settimana mi disse gli spezzero le gambe se mai dovessi rivederlo vostra grazia ho prestato 28 pezzi d'ora a questo tizio anche detto che mi avrebbe ribagato con gli interessi conosco il tipo adesso ho sentito dire che è partito per caldur dall'altra parte del mondo probabilmente si sta godendo il caldo e i bordelli caldala caladesi nel frattempo mi trovo qui in questo topaio grazie grazie per aver definito il mio castello una topaia è molto gentile senza il denaro per poter pagare i miei uomini ho tempo fino a stasera per pagarli altrimenti se ne andranno dove diavolo lo trovo di nuovo un equipaggio ho bisogno di denaro per due settimane dopo riuscirò a ripagarvi quindi vuoi del loro glielo possiamo dare signori una che ci potrà dare un esercito quindi sì ti dirò ma dovrei ripagarmi con gli interessi immagino che non troverai mai questo jonas se è davvero andato a caldur certo grazie vostra grazia ci vedremo tra due settimane cosa non darei per trovare quell'insolente ok abbiamo speso praticamente più della metà del nostro oro ma ciò potremmo permettere ho sentito che lena vi ha fatto una proposta devo dire che è un mene che voi non siate non abbiate consentito vostra grazia non commettere questo errore non accettare la sua offerta questo matrimonio non può avvenire credo che non siate a conoscenza della maledizione che affligge la famiglia di lena protezione dalle maledizioni vi ricordate la lettera potrebbe essere importante dovremmo parlare con lena per quanto riguarda la lettera mi sa maledizione quale maledizione dicono che suo figlio non si sposerà prima di compiere 20 anni si addormenterà per se non si sposerà prima di compiere 20 anni si addormenterà per non risvegliarsi mai più in poche parole andrà in coma e può essere spezzata questa maledizione c'è un modo per spezzare l'incantesimo sì ecco perché lena sta cercando disperatamente una ragazza da fare sposare a suo figlio per rimuovere la maledizione il problema è che non si può non può liberarsene completamente al momento del matrimonio l'incantesimo si trasferirà sulla sposa che morirà la notte successiva siete disposti a correre un rischio del genere grazie per l'informazione prego tuttavia riconsidererei fortemente l'accordo per il matrimonio di asalia prenderò in considerazione il vostro consiglio statene certa ok ci crediamo o no alle maledizioni signori sono tanti uomini che potrebbero unirsi a noi vedremo vostra grascia stefan sei tu hai un aspetto magnifico cosa è successo mi avete dato speranza vostra grascia ero davvero in pessimo stato avevo rinunciato alla vita ma doveva ricevuto il vostro oro ho capito che potevo fare qualcosa per me stesso non ho smesso completamente di bere non ho ancora smesso completamente di bere ma ho ridotto drasticamente le quantità trovato una nuova strada sto aiutando i meno fortunati della nostra cittadina le persone come me hanno semplicemente bisogno di un'altra possibilità e ora mi sento come se avessi uno scopo volevo solo venire a ringraziarvi vostra grascia vi devo la vita non ero sicuro di darti tanto oro fosse stata la scelta giusta ma sono lieto di vedere che sei che così che è così stato non potrei essere più felice per te stefan sono anche lieto di sapere che sta aiutando il prossimo sei un bravo uomo mi avete ispirato voi ad essere la vostra grascia non lo dimenticherò mai questa è una cosetta che ho ottenuto vendendo il mio pesce al mercato so che non è morto ma volevo dimostrarvi quanto sono in grado per l'aiuto non ce n'è bisogno perderemo qualsiasi cosa ci possa dare grazie alla fine un regalo che sta facendo lui col cuore perché l'abbiamo aiutato quindi signore mi sa che accettiamo qualunque cosa ci voglia dare spero non sia dell'oro perché sennò glielo togliamo dalle tasche lo apprezzo molto il tuo contributo aiuterà molte persone in difficoltà prego addio vostra grascia un po di provviste va bene va bene ci sta dai abbiamo comunque a parte ottenuto l'obiettivo abbiamo aiutato una persona e va bene qualcosa che non avevo fatto nelle mie run precedenti perché pensavo mi avrebbe fregato solamente i soldi mai giudicare un libro alla copertina e dovremmo più la come se comporta anche se ci ha detto addio quindi non penso che ci sarà altro vostra grazia sono uno stregone e offre mie servigie al mercato i vostri questo tanti vengono spesso a trovarmi quando rifiutate di aiutarli aiuto quanta più persone posso in cambio di una piccola ricompensa spesso nel sufficiente neppure per coprire il costo del materiale di cui ho bisogno per le pozioni al momento ho finito quasi tutti gli ingredienti è una cosa da smaltire non tanto inferiore alla vostra è una coda una coda da smaltire stai che cazzo è che è da smaltire non ho capito potreste per favore aiutarmi fondendomi dell'oro forse una strega di corte li potrebbe aiutare la nostra strega ha le sue pozioni possiamo mandarla da te per qualche settimana ad aiutarti in modo che tu possa guadagnare dell'oro in più e comprarti ulteriori ingredienti una strega non c'è da stupirsi che ci siano tanti malati le streghe sanno solamente mentire non sono affatto in grado di guarire le persone state cercando di insultarmi vostra grazia rifiuterò la vostra ridicola offerta ridicolo sarà lei ma guarda questo vengo da voi con animo umile spero che stiate bene nel corpo e nella mente questa grazia questo è torlando uno scrittore ben conosciuto nelle sale e nelle taverne di molti villaggi scusatemi non solo torlando io sono torlando il magnifico scrittore e poeta riconosciuto in tutti i regni che vivono il rinascimento artistico e la popolarità è oggetto di discussione anche nei regni in crescita stagnante tra cui ieles caldur baravia e radovia di cui non parlerò per le note ragioni molto bene cosa posso fare per te vostra grazia se posso sto lavorando al mio ultimo scritto ma non riesco a fingere a finire sono afflitto è una storia di intrigi reali giuramenti del passato sciocchi contadini rossuria da togliere il fiato potrei avere l'onore di illustrarvi la mia ultima opera ovviamente sono aperto all'arte di tutti i tipi la poesia si intitola per ora cupal nocna credo abbiate pazienza nella pronuncia di qualunque cosa sia è una luna splendente e brillante alta nel cielo la notte culpica e alle porte fuori si sentono risate musica ma il cavaliere stanco mai riposa all'interno del castello manca la gioia la questione fatale deve essere risolta la notte breve in questo periodo dell'anno quindi approfittiamone finchè possiamo fuoco piacere delizia ridomineranno questa notte ok è bella bellissima fantastico bravissimo grazie a vostra grazia anche se non mi sorprende che la togliata è splendida il problema è che non riesco a continuare mi sono scontrato contro un muro non mi sento più sicuro sono bloccato nella composizione e ho bisogno di ispirazione mi sembrano i due giullari di final fantasy 9 che adesso non mi ricordo il nome vi metto un'immagine da qualche parte che facevo tutto in rima sono fermamente convinto che il vostro generale stimolerebbe la mia creatività naturale pertanto vi supplico ve ne prego permettete al tuo generale di unirsi a me per far risplendere di nuovo il mio ego e temo di non poterlo fare non ho più con me il mio generale il mio generale riservato a trattare questioni importanti no 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 aspetta 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 signori taglio risolviamo immediatamente ok il problema risolto ho praticamente resettato il gioco adesso siamo nuovamente qua con lui era fortunatamente una cosa veloce da fare di conseguenza è stato un attimo un attimo di tornare a parlare con lui ho ripreso le stesse scelte che avevo fatto in precedenza quindi va bene così se diciamo con piacere ovviamente il generale non ce l'abbiamo quindi chiediamo di tornare un'altra volta quando avremo il generale a nostra disposizione vorrei poterti aiutare torna in futuro e potrai avere un generale a disposizione disponibile ad aiutarti leggo nei vostri occhi il desiderio di ascoltare altre mie meravigliose poesie tornerò tra due settimane sarà meglio che il vostro generale sia pronto per tale data quindi quando torna non lo mandiamo a nessuna parte che sono so cazzi questi piccioni portano sempre a un certo calza del trono beh si cagano un po ovunque vostra grazia parte del nostro villaggio si è allargata fortunatamente non ci sono stati feriti ma allargata 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 fortunatamente non ci sono stati feriti ma le nostre case sono danneggiate potrebbe servicire loro per acquistare le risorse necessarie per ricostruire delle case 12 pezzi sono tanti però cazzo sono veramente tanti 12 pezzi d'oro ci proviamo proviamoci dai anche noi siamo stati colpiti da recenti inondazioni ecco 12 pezzi d'oro credo che siano sufficienti per acquistare le risorse necessarie è un gesto davvero generoso sta grazie 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 prego ok andiamo avanti andiamo usciamo da qua dentro andiamo nella stanza da letto anche se non ci dice nulla voglio parlare con lei tesoro ci vediamo più tardi niente quindi non non ci abbiamo nulla da fare e possiamo solamente invitare qualcun altro e andiamo ad invitare ovviamente via lit che è l'ultima che ci manca vai vi ho spedito a posto direi che possiamo passare anche a settimana 20 signori cinque monete cazzo perdiamo un fottio perdiamo è perché dobbiamo pagare il generale e la strega insomma perdiamo veramente tanto vabbè abbiamo pochissimo ora attualmente 10 settimane dobbiamo trovare un modo di fare più più denaro perché è un casino altrimenti che vengono settimanamenti e ritornate il nostro generale ci abbiamo anche un piccione legge il piccione caro papà puoi dire a sedani che il polverello sta bene ha ammiagolato per i primi due giorni di viaggio senza mai fermarsi quindi ha perso la voce dopodiché si è reso e ha dormito per il resto del tragitto sfortunatamente reivo è allergico ai gatti quindi lo teniamo fuori dalle nostre stanze non preoccupatevi però ho realizzato una casetta per lui così ha un posto accogliente tutto per sé mi mancate tutti così tanto forse potreste venire a trovarmi un giorno tua lussuria povero polverello ha sempre amato crogiolarsi a letto con lussuria se danni non deve sapere quello che è accaduto che cosa che polverello dorme in una cuccia che c'è di strano non tutti vogliono gli animali dentro casa c'è pure io c'ho un cane ma sta fuori nel giardino mica sta dentro casa subia cioè non è una tragedia no ok dovremmo chiedere qualcosa altro lussuria chiediamogli di lei le pontofole sti cazzi chiediamo le pontofole ma guardi io chiederei di lei chiedi a lussuria come sta e come passa il tempo direi che qui manca a tutti molto bene vostra grazia scriverò la lettera credo che riceveremo risposta entro un paio di settimane bene così generale che mi racconta vostra grazia sono appena tornato dal villaggio di babushka sono rimasto là fuori per due notti con i miei uomini non è successo granché a parte alcune volpi che rivistavano tra i rifiuti non abbiamo trovato nulla ma gli abitanti del villaggio hanno detto di essersi sentiti più sicuro con noi sul posto grazie per il rapporto continuate a lavorare così prende ne ha fatto un cazzo sto generale va bene gli abbiamo dato due settimane di ferie praticamente vostra grazia trovato una corrispondenza tra la sostanza contenuta in questa fiala il belen usato da talis quindi è certo che questa fiala è stata utilizzata per avvenenare talis ma che ci faceva nei pressi di branca non lo so vostra grazia grazie mille sarà molto utile nella nostra indagine beh abbiamo solamente domande e mai risposte però che cazzo vostra grazia ho sentito che combatterete contro le bestie hai sentito bene ci stiamo provando per la battaglia contro la dovia mi chiamo via lit i miei antenati hanno combattuto con quelle bestie per molti anni prima che nascessi ho sentito che un cane radoviano è stato portato qui al vostro castello dicono che sia prigioniero nelle segrete voglio aiutarvi con quelle brutte bestiacce vi fornino uomini e risorse tre pezzi d'oro e 150 unità dell'esercito in cambio del cane rosso niente cane niente esercito non potrebbe più essere facile e perché hai bisogno di lui perché hai bisogno della bestie di lui voglio insegnargli una bella lezione ecco tutto credo che dovremmo farne un esempio per mostrare i suoi fratelli fratelli cani cosa succede a chi si chi tira fuori il muso questo li terrà a bada allora lei è una bella alleata praticamente non ci chiede si può dire nulla in cambio se non che è un prigioniero e anche qui c'è stanno due scelte che non me voglio dire però adesso perché sarebbe troppo spolerosa la cosa e che non so che fare questo è il problema allora sicuramente ritorneremo sull'argomento in futuro per il momento farei la stessa scelta che ho fatto nella mia prima run ovvero è tutto tuo fai quello che vuoi ma evita di raccontarmi cosa grazie fantastico me la prenderò comoda per assicurarmi che capisca cosa gli stia accadendo o ancora una cosa vostra grazia l'accordo salta se doveste decidere di aiutare qualcuno di questi cani non commettere errori a riguardo vostra grazia e più 150 non erano pochi signori siamo quasi arrivati al nostro obiettivo dei mille ho questo dente di animale ho trovato questo dente di animale nella mia cantina dei vini se dirmi qualcosa riguardo oh che dentone è bellissimo ma è tutto quello che posso dirvi vostra grazia mi spiace per non essere di grande aiuto per quanto riguarda la lettera la lettera scritta su una pergamena finitamente decorata sai dove potrebbe provenire fatevi pensare non viene alla mia terra vostra grazia non è firmata strano strano è maleducato e c'è sta e ho trovato una fiala mi è messa a dire qualcosa anche sulla fiala nei pressi di branca se dirmi qualcosa riguardo non sono mai stata a bunker ma sembra un brutto posto è tutto ok non ci ha dato praticamente nessuna informazione solamente 150 di esercito che per carità va benissimo vostra grazia è bello rivedervi vi porto novità ho sentito che stavate vedendo dei dipinti stavate vendendo dei dipinti al lord vesmary si vanta di stare stringendo degli accordi con voi si è venuto a trovarmi non sono sicuro se ne femmina però va bene di quale sia la vostra posizione a riguardo ma devo informarvi lord vesmary non è un collezionista è un artista un egocentrico compra quelle bellissime opere d'arte e le brucia è un vero peccato perché hanno un enorme valore e questi artisti meritano senz'altro riconoscimento ma egli crede che solo i suoi dipinti siano vera arte quindi vorrei che tenesse presente quanto che lo teneste presente quando gli vendete un'opera lui la brucerà d'accordo grazie per avermi informato devo parlarne con lui ecco questo è l'inghippo brucia un po il tutto cioè fai i falò ne vale la pena lo scopriremo dopo ho sentito che le vostre casse non sono al meglio vostra grazia era da un po che non ti facevi vedere banchiere guarda per ora è tutto non ci serve assolutamente nulla si si è sempre felice di aiutarci vostra grazia dalle mie parti c'è una strana nebbia che avvolge la vicina foresta chiunque entra e scompare senza lasciarne traccia alcuni avventurieri del posto hanno tentato la fortuna dicevano che avrebbero trovato il responsabile ma non sono mai tornati pensiamo che la nebbia trasformi le persone in rane forse insetti ce ne sono moltissimi nella foresta ma qualunque persona visi in oltre sparisce nel nulla ma si mandiamogli la strega dai forse la nebbia ha un'origine magica sarebbe meglio grazie mandare una strega e controllare forse sarei in grado di venire a capo della situazione ma certo combattere la magia con la magia siete davvero intelligente non c'è da stupirsi che siate il re oh vostra grazia il mio importante tenerci generale il mio ragazzo il mio caro nipote si è messo nei guai in grossi guai vostra grazia mi aveva chiesto di non venire ma io non so dove andare è coinvolto nelle ventine della polvere dell'oracolo ormai da molto tempo mi ha detto che era innocua prima si limitava a venderla ma recentemente ha iniziato anche a farne uso cazzi suoi all'inizio era al settimo cielo ridava ed era ridava forse magari rideva ed era tutto eccitato ridava non saprei che verbo si però va bene va bene va bene aveva persino provato a coinvolgermi ad usarla per ridassarmi ma non sono una donna che si lascia coinvolgere in queste losche faccende ora è molto malato vostra grazia non riesce ad alzarsi dal letto il mio povero ragazzo continua a chiedermi di portargli dell'altra polvere ma so percetto che essa è la causa della sua malattia mi dice che lo farà stare meglio non è il coraggio di guardarle in questo stato che si muove a malapena con la pelle blu come un mirtillo vi prego aiutatemi vostra grazia guardi anche no anche no quindi mi dispiace ma non vi posso aiutare cazzi suoi signori chi si droga deve patire i peggio dolori secondo me perché fai una cosa che già dovresti sapere te fa male se lo fai sei un cogliore punto non c'è altro da dire questa è la mia opinione chi vuole aiutare ben venga io per me puoi stare lì dove te trovi cioè te la sei cercata nel caso ti costringono a fare abuso di determinate sostanze è un altro discorso ma nel tuo caso nel caso di questo tizio ha provato gli è piaciuta è mogazzi tuoi e come chi fuma chi fuma chi fuma gli piace fumare bene basta qualsiasi cosa che succede è un problema tuo poi alla fine no cioè so via e dai assicurati che resti trattato e non lasci prendere altra polvere ne verrà fuori spero davvero sia così vostra grazia non so cosa farei senza di lui ma secondo me risparmieresti i soldi della pensione secondo me c'è gente che proprio vabbè 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 vostra grazia erano giorni che un gallo girava per la nostra cucina ma finalmente siamo riusciti a catturarlo era davvero bellissimo bellissimo uccello non abbiamo potuto tenere perché abbiamo già un gallo ma me ne è venuto proprio un brodo delizioso al nostro personale è piaciuto così tanto che ho pensato di farvene provare un po non sono proprio non so proprio da dove si è arrivato ma sicuramente era ben nutrito oh no sedari mi ucciderà non potevate chiedere a me prima era l'animaletto di mia figlia oh vostra grazia non lo sapevo le mie scuse sei licenziato idiota sparisci dalla mia vista e farei meglio a non farti più vedere vostra grazia non ne sapevo nulla mi dispiace davvero tanto non mi rivedrete più sarà meglio andare a parlare con sedari chi cazzo ti ha detto di cucinare il gallo me lo spieghi chi cazzo te l'ha detto c'è ti entra un gallo in cucina e tu lo cucini effettivamente sì però non lo dovevi fare qui mi ricenziato e e dai e dobbiamo fare vedere comunque siamo cazzuti e cattivi come re noi siamo dei polli cioè il pollo è quello che è stato cucinato no perché poi ci cucinano evitiamo possiamo andare avanti vostra grazia dai su via andiamo qui a parlare con lei perché c'è stavano due punti che altro c'è stato vostra grazia a doppio giustamente e lo studio mi ha mandato una lettera le ho chiesto di polverello proprio come mi avevi chiesto cosa ha risposto polverello sta bene a lui piace il nuovo castello scommetto che preferirebbe stare qui sta benissimo sedani non ha gradito molto il viaggio ma adesso in un accogliente castello probabilmente sdraiato accanto ma il camionetto acceso no padre lui è un esploratore probabilmente sta correndo attorno alle mura del castello come faceva qui ma certo sedani e ho dovuto sbarazzarmi del gallo a proposito ho lasciato libero il gallo in una pentola a pressione mi dispiace desideravo addarnemente uscire dalle mura del castello da morto ora è libero ora che è libero sarà più felice in un altro mondo probabilmente nel paradiso dei galli grazie vostra grazia volevo già farlo io non era adatto per fare la gente non faceva altro che fare cacca ovunque così fagli molli se sa sono felice che l'abbiate liberato padre ne sono dieta anch'io per favore fai attenzione con questi animali testa di patate certo vostra grazia bene in compenso ci abbiamo il brodino quindi nient'altro giusto nient'altro bene così e a questo punto mappa dovrebbe richiedere solo una settimana infatti inviamo il generale cioè prendere domani già c'è sta e poi lo possiamo mandare generale inviato a aiutare la il poeta a fare roba bene così quindi direi che possa anche essere tutte in realtà no possiamo ancora invitare qualcuno possiamo chiedere allena delle informazioni possiamo parlare della maledizione e quindi sì direi che è da fare sta cosa chi possiamo invitare ancora nessun altro il banchiere non ci serve ma ci accederà altri 130 in più ci dovrebbe restituire anche dell'oro quindi raggiungiamo tranquillamente mille bene bene dai direi che ci siamo invitiamo lena signori chiediamo informazioni a lei nel prossimo episodio ovviamente su tutto quello che è successo e che dovrà succedere di conseguenza completiamo la settimana e io direi che possa anche essere tutto abbiamo 15 unità di oro 56 di cibo e 920 soldati 20 di felicità quindi va bene così giostra e stalle per il momento non le prepariamo e anche perché le stalle non le possiamo preparare le giostre per il momento ce lo teniamo il cibo la felicità ce l'abbiamo quindi va bene così fortunatamente quando sono fuori non li dobbiamo pagare perché se non avremmo dovuto pagare pure lei sarebbero stati forse cazzi o sarei dire di sì signori dai i like sono fondamentali quindi lasciate tantissimi like condividete il video che anche questo è importantissimo e vabbè adesso di te robe signori dai alla prossima ciao a tutti ciao a tutti